Ciao a tutti, per chi non mi conosce, io sono Sara, una diplomata magistrale ante 2002, insegno da 10 anni, fra cui 6 anni di sostegno. Sono qui a fare un ennesimo video perché veramente sto vivendo momenti drammatici. Perché? Perché prima cosa sono sempre incollata a Facebook, ma non per vedere le cavolatine cosa fa quello e cosa fa quell'altro, sperando sempre che esca la notizia che finalmente noi diplomati magistrali, tutti, possiamo entrare in GAE. Perché è la cosa scandalosa che sta succedendo e non è che non ci fanno entrare, cioè io ripeto, l'ho detto anche nel video precedente, se avessero deciso che i diplomati magistrali non avessero il diritto di entrare in GAE, ma io sarei la prima a dire giusto. Però non è giusto che tutto dipende da quando è fatto il ricorso. Io ahimè nel 2014 ho seguito i consigli di CISOL, CGL, che dicono di non farlo e non l'ho fatto. Perché dicevano tanto se entra uno entrano tutti. B, non sono entrate nei termini giusti, anche se ho speso già 1000 euro, però non sono entrate nei termini dei tre mesi prima, non so, dei 60 giorni per poter arrivare al TAR o al Consiglio di Stato. Perché il problema è questo, se tu sei, vai a giudizio con il giudice del lavoro, che non sia di Milano, oppure che tu riesci ad arrivare al Consiglio di Stato, entri in GAE. Se invece tu l'unica possibilità è il GDL di Milano, mettiti l'anino in pace, perché tanto non passerai, perché il giudice di Milano, non so, perché ha deciso che noi non dobbiamo entrare. E' normale che negli altri paesi i giudici del lavoro danno sentenze positive a noi? E va bene. Poi c'è anche la questione del 27, la plenaria. Girono voci che forse la plenaria per noi sfigati del giudice del lavoro non c'entrerà. Io spero che si sbaglino, io spero che sia per tutti, anche perché non ha fatto ricorso, perché io conosco delle bravi insegnanti che le insegnano da anni, neanche persone che insegnano da più anni di me, che magari soldi per il ricorso non ce l'hanno. E poi per chiudere, voglio parlare di questo concorso truffa? Io non dico che sia una truffa, perché io non voglio pensare che ci sia qualcosa che già... Io di concorsi non mi fido, perché infatti poi i vari processi, i vari cose, si scopre che non sono veri. Io non voglio mettere come la pulce che è un concorso truffa, ma voglio chiedere a signor Renzi, mi spiega come faccio a prepararmi per il 28 aprile? Quando, esempio oggi, ho lavorato dalle 8.30 alle 18.30, mi sono fermata solo per la pausa pranzo. Mi spieghi quando studio, quando potrò studiare? Adesso sono arrivata a casa, sono stanca, dopo una giornata di lavoro, i problemi di famiglia che ho, non sto qui a raccontarvi perché ognuno ha i suoi problemi di famiglia. Mi spiegate quando io potevo studiare? Quindi il concorso è una truffa, non perché io penso che... Quello lo penso, però vabbè, che sia tutto già fatto, già deciso. Ma perché quando ho il tempo di studiare io, se lavoro dalla mattina alla sera, perché chi fa l'insegnante veramente proprio che lo fa con passione, la giornata gli passa così, fra preparare i lavori, già l'orario che sto... il mio orario scolastico comunque mi occupa tanto tempo, perché comunque i bambini vanno seguiti. Quindi io dico, mettetevi una mano sulla coscienza, o facevate entrare nessuno, e allora vi avrei ammirato, avrei detto, è giusto, i diplomati magistrali devono fare il concorso, però non è giusto invece che si decida che il destino del diplomato magistrale vada al giudice, al tempo di... cioè vada in mano a un ricorso, cioè non mi sembra giusto, non mi sembra giusto. E la professionalità? Cioè veramente, e poi c'è anche il rischio, perché finché ti... adesso parliamo seriamente, ma finché uno mi viene a dire, vabbè, non entri in GAE, è già lì mi arrabbi, perché non dico di entrare di ruolo, dico di entrare in GAE, non entri in GAE, però c'è anche il rischio che poi, siccome io i 36 mesi l'ho superati, che mi lasciano a casa, e mi spiegate una donna di 42 anni, oltre che rinuncerai a un lavoro che veramente io adoro, questo lavoro, e poi lo faccio anche bene, i bambini mi adorano. Ma io ho 42 anni, dove vado? Dove vado? Ma poi, scusami, scusatemi, è come... Cioè, non mi sembra... Cioè, io ho dedicato la mia vita a questo lavoro, ci ho messo tutte le mie risorse, lo sto facendo anche bene, pur non avendo l'abilitazione a sostegno, sto avendo dei risultati. Perché? Perché sta questa burocrazia? Perché il mio entrare in ruolo e non in ruolo, non dipende dalle mie capacità? Tu dici, c'è il concorso. Sì, ma il concorso, dammi il tempo per studiare. Il 12 aprile dà le date? Giugno, luglio, settembre, così io ho tre mesi, magari con la scuola chiusa, e io studio, e se mi dai le... la possibilità, io te lo passo il concorso. Poi se non lo passo, ma non che mi dici di da aprile, anche se io il concorso, ripeto, non ci credo. Ma non mi puoi dire, escono le date il 12 e il concorso è il 28. Ma anche, facciamo il caso da quando è uscito il bando, ma quanto tempo abbiamo avuto? Ma poi, ripeto, lavorando. Cioè, noi siamo insegnanti che lavoriamo. O devo fregarmene del lavoro, allora lascio il bambino di sostegno che sta lì e io mi sto lì a studiare, però il bambino non va avanti e questo non lo farò mai, perché prima vengono i miei bambini e poi vengo io. Perché io conosco, magari ci possono anche essere insegnanti che si mettono a studiare e lasciano il bambino lì. Io non lo farei mai. Non lo farei mai. Quindi, io dico una cosa, spero che questo video giri il più possibile, fermiamo questo schifo, perché è uno schifo, veramente, ripeto, Renzi, o tenere a casa o smetti con queste schifezze fra le trevellazioni, fra queste cose qua. Renzi, allora, vuoi stare al governo? Ma fai delle cose intelligenti. Cioè, veramente, vuoi stare al governo? Ci vuoi stare? Ma almeno governa bene, no? Cavoli. Cioè, allora, senza incapace, vattene via. Ciao a tutti. Grazie a tutti.